Stadio Sinigaglia di Como, spunta un nuovo progetto di riqualificazione. Un progetto per ora top secret, anticipato sull'edizione di oggi dal Corriere di Como. Nell'articolo, firmato da Marco Guggiari, vengono rivelati, oltre ai rendering, anche tre elementi importanti. Il primo riguarda il punto di partenza, una stretta amicizia italo-cinese, precisamente tra le città di Como e di Liyang. Il secondo è relativo al carattere avvenieristico del futuro impianto sportivo, che includerebbe un importante intervento anche sull'area circostante. Il terzo elemento, logica conseguenza dei primi due, è il forte interesse manifestato dal gruppo cinese che si intesterebbe l'iniziativa ad acquistare anche il Como per portarlo rapidamente a livelli molto più importanti. Una pista di lavoro in questa direzione viene fornita da un incontro previsto in città per il 18 febbraio, martedì, la giornata dell'amicizia tra Como e Liyang in un grande hotel del centro. Gli inviti all'evento recano i loghi del Comune di Como, dell'Associazione Cina Italia e della città di Liyang. L'incontro avrà carattere culturale e prevede anche la presentazione del progetto di collaborazione tra imprenditoria cinese e comasca intitolata Dolci per te, alla scoperta dei biscotti e del tè, dei cinque elementi combinati tra loro attraverso i principi della medicina cinese per produrre piacere e benessere. E l'elenco delle personalità che interverranno all'evento offre un importante spunto. Tra i relatori ci sarà infatti Raven Chang in rappresentanza di Greenland Group, società di costruzione cinese quotata in borsa e che si colloca tra i primi tre gruppi immobiliari del paese. Difficile non immaginare che anche il progetto dello stadio Sinigaglia, secondo le informazioni in possesso del Corriere di Como inserito nell'ambito dell'amicizia italo-cinese e tra come Liyang, veda in qualche modo come protagonista proprio questo grande colosso dell'imprenditoria asiatica.